Ciao a tutti e bentrovati in questa puntata di pensiero computazionale apprendimento creativo. Io sono Flavio e oggi vorrei esplorare con voi la programmazione di Ozobot con la piattaforma Ozoblockly. Vi presento il mio Ozobot. L'ho programmato per disegnare questo bellissimo esagono. Per farlo ho dovuto comprendere molto bene come è fatto un esagono e quali relazioni esistono tra angoli e lati. Ma come è possibile programmare Ozobot senza utilizzare i pennarelli? Possiamo farlo con Ozoblockly. Tra l'altro è molto simile alla piattaforma Scratch, quella che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Bene, in questa puntata scopriamo come creare un progetto utilizzando la piattaforma di programmazione Ozoblockly, come scaricare il programma su Ozobot, come eseguire il programma e come effettuare la calibrazione e a che cosa serve. Innanzitutto colleghiamoci al sito www.ozoblockly.com e poi clicchiamo sul pulsante Get Started. Questa è la piattaforma di programmazione Ozoblockly. Osserviamo qui in alto a sinistra. Vedete? Abbiamo la possibilità di programmare due tipi di Ozobot differenti. Ozobot Bit e Ozobot Evo. Il nostro è un Ozobot Evo, quindi dobbiamo selezionare l'icona Evo. Ozoblockly ci fornisce 5 livelli di programmazione differenti. Dal pre-reader, che contiene soltanto icone, fino al numero 5, cintura nera di Ozoblockly. Per questo progetto scegliamo il livello 1. Potete esplorare liberamente gli altri livelli e scegliere quello che vi piace di più. Ricordate che alcune funzionalità sono presenti soltanto nei livelli avanzati. Ok, proviamo ora a creare un programma in cui l'Ozzobot si muove percorrendo i quattro lati di un quadrato. Ok, per realizzare il nostro programma dobbiamo innanzitutto assicurarci di aver selezionato l'Ozzobot Evo. Poi possiamo utilizzare il livello 1, il pre-reader, e per disegnare un quadrato iniziamo dal primo lato. Andiamo in Movement e per esempio facciamo dieci passi in avanti. A questo punto possiamo ruotare di 90 gradi a destra e ripetere queste due operazioni per quattro volte. In questo modo. Bene, abbiamo terminato il nostro programma. Come facciamo però adesso a trasferirlo nel nostro Ozzobot? E' molto semplice. Abbiamo due possibilità. O utilizzare la modalità flashing oppure utilizzare il collegamento Bluetooth. Vediamo la prima modalità. Clicco su flashing e eseguo il processo proposto dalla piattaforma Ozzoblockly. Innanzitutto devo calibrare Ozzobot, ovvero devo dirgli che non sta più interagendo con un foglio di carta, ma sta interagendo con uno schermo di un computer. Per questo ricordiamoci di impostare al massimo la luminosità dello schermo. Per calibrare l'Ozzobot devo posizionare il dispositivo sul cerchio bianco e premere il pulsante di accensione, quello sulla tempia sinistra, per almeno due secondi. E comunque fino a quando non si accende il LED bianco. Quindi posso rilasciare il pulsante e aspettare. L'Ozzobot è sempre sul cerchio bianco. Al termine dell'operazione si dovrebbe accendere il LED verde. Se si accende il LED rosso è necessario ripetere la procedura di calibrazione. Ok, calibrazione completata. A questo punto dobbiamo collocare il nostro Ozzobot sulla prima immagine bianca, questa qui, e poi premere il pulsante Load Evo. In questo momento Ozzoblockly sta traducendo il programma utilizzando una sequenza di codici colore. Una specie di alfabeto morse cromatico, se vogliamo. Al termine della procedura il programma è stato trasferito in Ozzobot. Ce ne accorgiamo perché si accende il LED verde su Ozzobot. Se invece si dovesse accendere il LED rosso vuol dire che ci sono stati problemi nel trasferimento. Nessun problema. Possiamo ripetere la procedura da capo. Eccoci finalmente arrivati all'ultimo passaggio. Come faccio ad avviare il programma che ho trasferito nel mio Ozzobot? Anche in questo caso è molto semplice. Una volta acceso basta premere due volte in sequenza il pulsante di Ozzobot. Così. Come vi dicevo esistono altri metodi per trasferire il programma su Ozzobot. Per esempio se avete un Ozzobot Evo potrete utilizzare il collegamento Bluetooth. In questo modo. Accendo l'Ozzobot. Clicco sull'icona Programs. Clicco sul pulsante Connect. Cerco l'Ozzobot e lo collego al computer. Poi seguo tutti i passaggi proposti dalla piattaforma Ozzoblockly. Un'ultima cosa. Non preoccupiamoci. Come vi ho già detto per Scratch non dobbiamo conoscere la memoria, cosa fa ogni singolo blocco. Proviamo a esplorare liberamente e se un nuovo blocco ci incuriosisce proviamolo e vediamo cosa succede. E ora tocca a voi. Utilitate Ozzobot per creare la vostra forma preferita. Aggiungete luci, suoni, liberate la vostra fantasia. Bene, per creare il nostro primo progetto su Ozzoblockly in questa puntata abbiamo scoperto come programmare sulla piattaforma Ozzoblockly, come scaricare il programma su Ozzobot, come eseguire il programma, come effettuare la calibrazione e a che cosa serve. Prima di salutarci vi segnalo alcune risorse utili. Il sito Ozzobot, dove ci sono attività didattiche per tutte le discipline e per tutti gli ordini di scuola. Al posto di un computer potete anche utilizzare un tablet per la programmazione di Ozzobot. Potete ad esempio utilizzare l'app Ozzobot Evo. Il processo è assolutamente identico a quello che ho appena illustrato in questa pillola multimediale. Potete utilizzare la modalità flashing o il collegamento bluetooth. Vi segnalo anche la galleria di riconnessioni. È una bellissima raccolta di attività didattiche realizzate da insegnanti come voi. Che la creatività abbia inizio. Ciao ciao! Ciao!